Dopo 5 mesi di assenza, dopo le prime due convincentissime, insomma, vittorie, entrambe per 1-0 contro avversari imponenti come Kappa e Zlatan, il Bombersteam è tornato. Salve a tutti ragazzi e finalmente ben ritrovati con Sfidalo Youtuber, torniamo dopo quanto tempo? Tipo 6 mesi? Cioè da novembre che non vi portavo un episodio di questa serie che torna oggi con un ospite eccezionale, tanto per cambiare, ovvero... Sandro Piccinini, incredibile! Incredibile, la parodia, esatto, è la parodia di Piccinini. Esatto, quindi cominciamo ad avanzare, l'emozione c'è ragazzi, perché questa è una partita che voi vedrete, che avete già visto ma non avete visto. Che è la Winter Cup ragazzi, torneo famosissimo, che ci ha visto sfidanti, purtroppo nella nostra partita Federico Marconi ha peccato e non è riuscito nemmeno a deditarla. Perché purtroppo ho perso tutto, ho perso tutti i file, che oggi sono lì e spero di tenere a cuore e di riuscire a portarvi questo video, altrimenti... E quindi giustamente come diceva Bella FIFA, questa è una partita che voi vedete per la prima volta, quindi è come fosse un recupero di quella della Winter Cup, poi vi anticipo che ci sarà anche un ritorno sul suo canale e quindi passate in descrizione. Che no ragazzi, quanti mi piace dobbiamo fare? Quanti? Quanti? Ah, dobbiamo fare, non lo so, dillo tu dai, sei ospite, puoi dirlo tu. 200? 200 mi piace va bene, ce la facciamo, ce la facciamo, fate i bravi. 200 mi piace, passate in descrizione da Bella FIFA. E dicevo 200 mi piace, non riesce a stare zitto, ma va bene. Dicevamo che 200 mi piace, passate in descrizione da Bella FIFA sul suo canale e parte sarà. C'è subito molta ignoranza in questa partita, poi che hita grandissima. Vabbè, ho già Giorginio! Mamma mia. Parte forte il bambistino. Ma se le mie maglie si confondono con il campo. Ah, è vero? Siete al tonico, cazzo? Ma sei problematico. Il mio sta là. Eh, ma il mio è più forte. Ho detto. Eh, vabbè, il tuo è buggato. Il tuo è De Roma. È appunto. È quello originale. Guarda come parte Keita. Che lancio di Dignia, ragazzi. Che lancio di Dignia, ragazzi. È partito Keita. Keita, Keita, prendi il fondo, la metti in mezzo. Mamma mia. Che culo. Salah entra in aria. Salah, con la suola. Salah, la può mettere in mezzo. Con questa si può minare con quella di me. Oh, via. Palla per Pjanic. Pjanic, allargalo. Allargalo. Uh, Dignia l'ha toccata. No, non l'ha toccata. Ti sei mangiato Salah. Ancora Salah, che magia. Salah può concludere. Mamma mia. Poi Morata. No, è rigore. È rigore. È calcio di rigore. È calcio di rigore. È netto. È netto questo rigore. Ha fatto tutto da solo Rugani qua. È perché è l'intelligenza artificiale che non lo sai. È esatto. E ora i cardi. Non me la spuccio. Parti. Ancora di dentro. Parti i cardi. Maurito. Bombersimuno. E guardate caso, ragazzi. È il 45esimo minuto. E' no. E' no. E' no. E' no. Tu pensa a difenderti? Che qua Salah è partito con la moto. Eh già ci ho pensato, ragazzi. Eh. La moto mi sa che ne ha accesa Salah. È come il microfono tuo. Occhio ai cardi. I cardi è solo. Può raddoppiare. No, che cazzo. Eh, ma allora mi prendete lì. Ma è tutta la partita di tirano centrale. Ma è pensando a Wanda Nera. La seconda partita, ragazzi. Eh, lo sapevo che diceva così. Occhio tanto a Dignia. Dignia può andare. Dignia la mette al centro per i cardi. Ma due a zero. Maurito che pensavo avesse sbagliato perché ho caricato tipo anni orsono. Ma tu sei nabbo. Cosa? Cosa vuoi? Era un cross al centro. Tu sei nabbo. Non ho fatto nulla di inquietante. Anzi io volevo servire De Pai sinceramente. Però va bene così. I cardi. Questo è un gran gol, ragazzi. Di quello che ti pare, plebeo. Occhio per i... No, va bene. Vai gol. Dai. Per il te la rimessa al centro. Dai. Dai che ti ha balto. Bravo. Su, 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 su che la pareggiamo adesso. Sì, due volte. Di bala ha parato il tiro. Ma guarda che coro. Ma guarda che stancura. Dai. Lo sapevo, non riuscivo a ripartire da 10 minuti. Senta, fammi fa il cammino. E' un po' di Ludigr che ha cominciato a spingere davanti. Eh. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo il mese prossimo. Che non vuol dire proprio tra un mese. Ma vuol dire nel mese di aprile. Con un'altra sfida. Mi raccomando, consigliatemi qui sotto nei commenti. Lo youtuber da sfidare. Anche se io ho una mezza idea. Ce l'ho già. Ci vediamo sul canale di Bella FIFA. Mi raccomando, quindi raggiungiamo questi 200 pollicioni. Voi, appunto, il like lasciatelo. Passate l'iscrizione per il suo canale. Se non lo siete già, iscrivetevi a questo canale. Per poi iscriversi al suo. E iscrivervi. Come cazzo dico? La sfida alla youtuber è in esclusiva premium sul canale di Federico Marconi. Una volta al mese. Per 100 mesi all'anno. E quindi, cosa aspettate? Iscrivervi. Mi raccomando, un bel pollice in su. Un commentino. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bella via a tutti. Nel prossimo video. Bella riga. Ciao.